E mi stupisce che non vediate il nesso tra la crisi della natalità, di cui spesso parlate, e la precarità in cui versano moltissime donne in questo Paese. Guardi, questo mi spinge a chiederle perché non approviamo subito un congedo paritario, pienamente retribuito e non trasferibile di almeno tre mesi. Questa sì che è una misura che aiuterebbe il lavoro delle donne, redistribuendo anche il carico di cura. Quindi io le chiedo, Presidente Meloni, approviamo subito un salario minimo e un congedo paritario. Noi ci siamo. Sul tema dei congedi parentali, guardi, siamo molto d'accordo, nel senso che anche qui, come si è visto, le poche risorse che potevamo spendere, in parte le abbiamo utilizzate per un ulteriore mese di congedo parentale, utilizzabile nei sei anni dalla madre o dal padre, retribuito all'80%, era quello che potevamo fare. Ma poiché il tema del sostegno alle madri lavoratrici, del sostegno alla natalità, è per noi una priorità assoluta, su questo sono sempre disponibile a confrontarmi e a parlare. Grazie.